Salve a tutti, mi chiamo Francesca e sono un'insegnante di alchimia interna taoista o Neidan in cinese, credo, visto che io il cinese non lo parlo. In questa serie di video che introduco in questa playlist ci sono delle camminate, delle camminate che servono a sia aiutare il nostro corpo in generale, ma sono anche una meditazione e aiutano il flusso dell'energia. Come al solito nei miei video, tutorial, nei miei video in cui insegno proprio le basi, introdurrò prima il modo di fare queste camminate tecnicamente, cosa si deve fare col corpo, con la respirazione, e poi come si possono fare con un po' di meditazione e attenzione e a che cosa servono. Spero che vi piacciano, ok? E naturalmente i vostri commenti sono benvenuti. Potete vedere nella descrizione qui sotto come contattarmi e anche come imparare insieme, se volete, online o dal vivo. Arrivederci a tutti e buona giornata!